Un attentato nella notte di domenica con la telecamera che, dati accertati dalla società che è in gestione il rilevatore, smette di registrare la velocità dei veicoli alle 5.30. Nuovo colpo di Fleximan in provincia di Padova, questa volta nessun flessibile come accaduto a Villa del Conte per il rilevatore lungo la strada provinciale del Piovego, ma un'esplosione di cui sono stati raccolti tutti i resti dei carabinieri che conducono le indagini. Un velox tarato sul limite dei 70 km orari, operativo da quasi otto anni, che peraltro non è l'unico lungo la strada regionale 53 Postumia, un'arteria da 10.000 veicoli in transito al giorno. Questo è un velox installato dal novembre del 2016, è stato installato proprio per scopo di deterrenza nei confronti delle alte velocità, sono state registrate delle velocità molto elevate e quindi è stato previsto questo velox che è bene o male conosciuto un po' da tutti. È sorpreso il primo cittadino che, date alla mano, ci racconta come fosse limitato il numero di multe accertate dal rilevatore di velocità posto a pochi chilometri dal centro abitato di Campagna Alta. La media sono circa 6-7 contravenzioni al giorno con una tendenza anche alla diminuzione, vuol dire che questo tipo di dispositivo negli anni è stato efficace appunto per limitare le velocità. Il velox al termine delle indagini verrà riacceso. Sono in corso delle indagini e appena possibile verrà ripristinato, peraltro con delle spese a carico del gestore non del comune. In questo momento che stiamo parlando c'è un traffico molto sostenuto, qualcuno sicuramente non sta rispettando i 70 chilometri all'ora ed è importante insomma il corretto rispetto dei limiti di velocità.